Scendono verso l'Adriatico selvaggio che verde è come Pascoli dei Monti, ma non è settembre e non si tratta di pastori. Lo scenario è lo stesso descritto da D'Annunzio e i protagonisti sono lupi. Il video amatoriale dei due esemplari avvistati a Città Sant'Angelo, Zona Mare e Sabato ha fatto il giro del web. Un paesaggio insolito per la specie tanto da meritare l'attenzione dei canali social, ma nemmeno più di tanto, se si considerano alcune stranezze legate ai cinghiali, tanto per fare un esempio, è che dire dell'orsetto marsicano guancarrito beccato in pasticceria a mangiare un cannolo, diventato un normale convivente dell'uomo, che non ha saputo proteggere fino in fondo il cucciolo di Amarena. Un ecosistema che cambia con i confini sempre meno definiti e che non vede più l'uomo ai centri urbani così distanti. Attualmente possiamo dire che siamo probabilmente a 4.000 o 5.000 lupi in tutta Italia, e quindi questi lupi hanno colonizzato nuovi territori fino ad arrivare alla costa e in questo modo si stanno avvicinando anche alle città, perché nelle città i lupi trovano cibo. I due lupi erano stati avvistati in via Crocifisso a Città Sant'Angelo mercoledì scorso e il sindaco Matteo Perazzetti aveva allertato la forestale. Sono scesi poi verso il mare e hanno attraversato via Torre Costiera per dirigersi verso la foce del fiume Saline al confine con Montesilvano. Una bella passeggiata tra piste ciclabili e case con una metà presa di mira anche da un gruppo di cinghiali qualche settimana fa. Lecito chiedersi come comportarsi in caso di incontri ravvicinati. Bisogna imparare a convivere con questo predatore evitando alcuni comportamenti che sono quelli di abbandonare i rifiuti al di fuori dei cassonetti, tenere i cani al guinzaglio, tenere questi animali domestici in casa con cani e gatti in casa soprattutto durante la notte o in recinti antilupo. Per gli allevatori è necessario usare reti elettrificate, cani da guardia mia come il cane pastore abruzzese e poi nel caso di avvistamenti di lupi se avvistiamo un lupo a 50 metri, a più di 50 metri non c'è alcun problema. Se invece il lupo mostra un interesse e si avvicina a meno di 20 metri in quel caso bisogna cercare di spaventare l'animale. L'animale va spaventato urlando e alzando le braccia perché deve capire il lupo che deve mantenere una distanza di sicurezza.